E' un progetto da 2 milioni di euro, quello elaborato della cooperativa Gorà di Sciacca, finalizzato al restauro e valorizzazione del castello incantato di Filippo Bentivegna, luogo suggestivo che la società presieduta da Giuseppe Gulino gestisce dal 2008 per finalità turistico-culturali. Il fondo Bentivegna infatti è di proprietà della regione siciliana che nel 2015 lo ha dichiarato bene culturale. L'iniziativa della cooperativa Gorà, che per il progetto di restauro e valorizzazione del sito si è affidata all'architetto Giuseppe Amico, rappresenta un valido esempio di quanto sia importante sfruttare le opportunità offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e le ingenti risorse messe a disposizione nel campo della cultura. Il progetto presentato infatti risponde all'avviso pubblico per la presentazione di proposte riguardanti il restauro e la valorizzazione dei parchi e giardini storici da finanziare nell'ambito del PNRR. Prevede interventi sul giardino, sulla componente architettonica e scultoria, ma anche sull'impiantistica e sulla sicurezza e accessibilità al sito. Un luogo suggestivo inserito dalla cooperativa che lo gestisce nella rete museale di Sciacca e il castello incantato di Filippo Bentivegna che dagli Stati Uniti, dove era emigrato da giovane, torna a Sciacca nel 2019 ed acquista il fondo dove scolpirà le sue teste per la sua intera esistenza. Il fondo di circa 18.000 metri quadri con presenza prevalente di ulivi secolari, mandorli e carrubbi diventa il suo universo di pietra, la tavolozza selvaggio e irregolare dove raffigura un paesaggio umano scolpito. Le fonti documentali, iconografiche e fotografiche riportano come durante l'attività di Filippo Bentivegna il giardino si presentasse selvaggio e irregolare, attraversato da una rete di sentieri battuti dal sole e lastricati con rade pietre, delimitati da muri a secco su cui lo scultore poggiava le sue teste scolpite su pietre. Una natura selvaggia che subisce negli anni Ottanta un intervento progettuale invasivo che ne snatura i valori primordiali su cui aveva operato Filippo Bentivegna. I sentieri vengono pavimentati, i terrazzamenti e i muretti in pietra vengono ricoperti con una colata di calcio e struzzo. Un'infelice opera di regolarizzazione del caos alla quale la cooperativa Gorà con questo progetto vuole porre rimedio con un intervento di mitigazione. Negli anni sono state effettuate opere di manutenzione tendenti alla conservazione del giardino ad una migliore fruibilità da parte dei visitatori, ma manca ad esempio un impianto di illuminazione che ne consente alla fruibilità anche di sera, un impianto di smaltimento delle acque meteoriche causa di rilevanti problemi di allagamento nella stagione invernale e poi un impianto di videosorveglianza del sito. A tutto ciò guarda il progetto elaborato su iniziativa della cooperativa Gorà. C'è da auspicare solo che vada a buon fine. C'è da auspicare solo che vada a buon fine.